Riccardo, ti auguravi sicuramente un risultato diverso per il tuo ritorno al Palapanini dove hai giocato per quattro anni? Ma certo, è stata una gara dura, secondo me il secondo sette, eravamo avanti 17-13, lì è stato un grosso caldo delle squadre e secondo me se vincevamo quello sette lì sicuramente sarebbe un'altra partita, no? Ma è successo, è un 3-0, nessuno ce l'aspettava proprio questo risultato, però ci sta, è una grande squadra sicuramente noi abbiamo fatto tanti cambi, l'allenatore ha cercato di trovare una squadra giusta per quel momento e non è andata bene, però dobbiamo lavorare questa settimana e dimenticare quella partita lì perché adesso sì, si inizia il bel del campionato, sono i play-off, lo so e sappiamo che la squadra di Latina è una grande squadra e dobbiamo stare attenti e dimenticare quella partita che è già andata contro il di Modena Ecco, Latina, una squadra che già conosci in quanto proprio al tuo arrivo in Italia l'avete affrontata fuori casa quali insidie nasconde questo impegno di play-off? Io sicuramente ho guardato la partita, questa prima partita che ho guardato a Latina, ero in panchina e quindi ho potuto veramente guardare da lontano e quindi c'è un palleggiatore che lo conosco bene da tanto l'opposto, ci sono due scacciatori che battono forte in battuta, sono furbi a giocare a Palavoro e quindi è una squadra che lì secondo me in questo momento qua ci dobbiamo proprio pensare nella nostra squadra quello che facciamo noi in campo e poi dobbiamo avere la testa giusta per affrontare questa prima dei play-off e quindi non dobbiamo veramente pensare nelle squadre di loro e sicuramente nelle squadre giuste che mettiamo in campo per la prima partita Si gioca al meglio delle tre partite, questo vuol dire che assolutamente vi è dato sbagliare? Senza dubbio, è una partita importantissima, io voglio mettere a posto tutto quello che non ho potuto fare a Modena e cercare di che quella partita lì non succeda più, non possiamo più sbagliare, dobbiamo affrontare come una nostra prima finale Nello sport è sempre difficile fare delle promesse, però comincia un altro campionato con i play-off che cosa puoi promettere ai nostri tifosi, ai tifosi della Cucina e Lupe e Banca Marche? Che squadra vedranno in questi play-off? Sicuramente quello che posso dire su di me, scenderò in campo veramente cercando di dare il mio massimo veramente con la grinta giusta e affrontarla con la voglia giusta di vincere quella partita Io sono abituato ormai a giocare play-off e quindi non è che sarò teso, sicuramente sarò bello e tranquillo però con la carica giusta per vincere la prima cosa che dobbiamo pensare, non solo noi, anche i tifosi che devono veramente essere insieme e stare insieme a noi dall'inizio alla fine di questo confronto contro Latina